Buongiorno a tutti, sono Ivano Ricchebono, ristorante The Cook di Genova. Oggi vi presento una ricetta estiva, una ricetta fatta con un gelato all'olio extravergine Riviera Ligore DOP con un crumble di cacao e ciliegie. Abbiamo già preparato il composto con latte, sale e zucchero, l'abbiamo fatto arrivare a 100 gradi, abbiamo aggiunto l'olio extravergine DOP e andiamo a riempire i nostri stampi. Li riempiamo tutti e poi facciamo un passaggio in abbattitore di temperatura oppure nel congelatore di casa almeno per 48 ore. Allora, sono passate 48 ore, andiamo a sfornare i nostri gelati e li andiamo a glassare con un fondente di cioccolato bianco. Li adagiamo su un foglio di carta. Abbiamo preparato un crumble a cacao, quindi un biscotto sbriciolato. Aggiungiamo delle ciliegie. Con le stesse ciliegie abbiamo tenuto una purea che abbiamo legato. Facciamo una guarnizione con un po' di fiori eduli. E terminiamo con un po' d'olio in polvere. Ecco il mio piatto, un gelato all'extravergine di oliva Riviera Ligure DOP con ciliegie e crumble di cacao.